Best for Soil, sostanza organica del suolo. Ciao, mi chiamo Alfred Grand. Questo video di Best for Soil fornisce un'introduzione al tema della sostanza organica del suolo, i suoi benefici e come proteggere e aumentare la sostanza organica del suolo nel tuo campo. Alla fine del video si trovano ulteriori informazioni su questi argomenti. Si consiglia di guardare anche gli altri video di Best for Soil sul compost e altri argomenti relativi alla salute del suolo. La sostanza organica del suolo è costituita principalmente da carbonio. È definita come la componente del suolo proveniente da residui vegetali e animali nelle diverse fasi di decomposizione. Nella maggior parte dei campi coltivabili in Europa, il contenuto di sostanza organica del suolo varia dall'1 al 6%. Più fresco è il clima e il suolo, maggiore è la quantità di sostanza organica presente nel terreno. Pertanto, nell'Europa settentrionale, vengono immagazzinati livelli più elevati di sostanza organica del suolo rispetto all'Europa meridionale. La sostanza organica del suolo ha un enorme impatto sulle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo e quindi anche sulle diverse funzioni di esso. Considerando questi fatti, la sostanza organica nel terreno svolge un ruolo importante per il suolo, gli agricoltori, la società, l'ambiente e il clima. Uno dei vantaggi fisici della sostanza organica del suolo è la stabilità degli aggregati, che determina minore formazione di crosta, migliore infiltrazione d'acqua, migliore porosità e distribuzione dell'aria. Anche la capacità di trattenere l'acqua migliora aumentando il contenuto di sostanza organica del suolo. Queste caratteristiche sono estremamente importanti se consideriamo il crescente verificarsi di eventi meteorologici di grande entità dovuti al cambiamento climatico. I vantaggi derivanti dall'aumento della sostanza organica del suolo sulle caratteristiche chimiche includono una maggiore capacità di scambio di cationi, ovvero la capacità del suolo di attrarre e conservare importanti nutrienti. In generale, si ottiene una disponibilità di nutrienti più dinamica per le piante. Una delle caratteristiche più importanti della sostanza organica nel suolo è che alimenta gli organismi del suolo, che alla fine sono vantaggiosi per l'agricoltore. La sostanza organica è cibo per i microbi che aumentano la loro attività e che rappresentano un buon sistema di controllo delle malattie trasmesse dal suolo. Ma la sostanza organica del suolo è anche un habitat che contribuisce ad aumentare la diversità dei microorganismi del suolo. L'impatto della sostanza organica sulle diverse caratteristiche del suolo è molto importante perché comporta una riduzione dei livelli di stress per le piante, una maggiore resilienza del suolo e la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni anche in condizioni difficili, come siccità, forti piogge, ecc. Oltre a tutti gli effetti fisici, chimici e biologici, l'aumento della sostanza organica del suolo può contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad aumentare la capacità dei suoli di sequestrare il carbonio. Quali metodi sono considerati i più efficaci per evitare perdite di sostanza organica del suolo da un lato e per mantenere o addirittura aumentare la sostanza organica del suolo dall'altro? Come possiamo non solo proteggere gli esistenti livelli di sostanza organica del suolo, ma anche incrementarne il contenuto nel suolo? Prima di andare oltre, occorre effettuare il bilancio della sostanza organica del suolo al fine di scegliere la strategia corretta. Si può effettuare il bilancio usando la scheda informativa di Best for Soil. Esistono fondamentalmente tre tipi di sostanza organica del suolo. Sostanza organica facilmente solubile, moderatamente stabile e stabile. Ogni tipo ha le sue funzioni, tutte importanti. Se vogliamo occuparci della sostanza organica del suolo, è più facile proteggere quella esistente piuttosto che crearne della nuova. Con la lavorazione dei terreni, l'ossigeno viene incorporato nel terreno e l'attività microbica viene accelerata. I microbi si nutrono della sostanza organica e rilasciano anidride carbonica nell'aria. Sebbene questo faccia parte di un ciclo naturale e rappresenti una risorsa importante per le piante, la ripetizione eccessiva di questo processo non è necessaria e conduce alla riduzione dei livelli di sostanza organica del suolo. Un altro fenomeno che determina perdita di sostanza organica nel suolo è l'erosione. Quando il suolo superiore viene rimosso dal campo attraverso il vento e l'acqua, anche quantità significative di sostanza organica vengono rimosse dal campo. Anche la rimozione dal campo di tutti i residui di piante ha un effetto sulla perdita di sostanza organica, poiché essi proteggono il suolo dall'erosione e forniscono al suolo sostanza organica fresca. Ridurre le lavorazioni e l'erosione del suolo e riportare i residui delle piante sul campo sono azioni importanti per ostacolare la perdita di sostanza organica del suolo. Diversi metodi possono aiutare ad aumentare la quantità di sostanza organica del suolo nei nostri campi. Uno dei metodi migliori è quello di mantenere la superficie del suolo coperta da piante viventi. Ciò può essere ottenuto attraverso una diversa rotazione delle colture e l'impiego di miscele di cova crops. Se possibile, leguminose perenni come trifoglio o erba medica o miscele di graminacea e trifoglio funzionano meglio per aumentare o mantenere la sostanza organica del suolo. Un altro metodo è quello di apportare la sostanza organica sul terreno. Compost con cime solido, fertilizzanti organici e modifiche del suolo possono essere applicati, ma anche materiali più recenti, come il biochar, possono avere un impatto significativo e rapido sull'innalzamento della sostanza organica nel suolo. Il biochar è carbone prodotto attraverso la pirulisi dei rifiuti organici. È ricco di carbonio e stabile nel suolo, dove rimane intatto per secoli. Mantenere il bestiame al pascolo o mantenere colture perenni aiuta anche ad aumentare i livelli di sostanza organica nel suolo. La composizione della sostanza organica è influenzata dalla matrice da cui proviene e persino dal tipo di coltura. Ad esempio, è possibile scegliere specie legnose o non legnose per aumentare il contenuto di sostanza organica stabile o facilmente solubile. L'innalzamento dei livelli di sostanza organica nel suolo è un processo a lungo termine che richiede molte conoscenze e un po' di esperienza. Per ottenere maggiori informazioni, visitare il sito web Best for Soil, dove si possono trovare informazioni aggiuntive e consultare le schede che riportano approfondimenti. Per ottenere maggiori informazioni,